Ok, ascoltate bene. Non abbiamo molto tempo. Siamo sull'orlo di una guerra. Contro un nemico che non capiamo. Siamo decisamente sfavoriti. Ci sono spie nei nostri ranghi. Ma abbiamo qualcosa che loro non hanno. Un motivo per combattere. Che siate sempre stati qui. O siate in visita da un'altra stella. Quest'isola è nostra. E se è la guerra che vogliono, beh, la avranno. Ciao. 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 Grazie a tutti.